Buonasera ragazzi, benvenuti sul canale Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 9 maggio 2018 e voglio portarvi un progetto che si chiama R-Chain. Prima di iniziare, un veloce ringraziamento a chi si iscrive al canale, che commenta e che mette mi piace, grazie mille, siete fantastici. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi perché pubblichiamo tutti i giorni video su blockchain e criptovalute, per cui se vi interessa il settore, se pensate che questo sia il futuro, iscrivetevi al canale. Veloce disclaimer, solito, i miei non sono consigli di investimento, mi raccomando, fate le vostre ricerche, prima di investire leggete il white paper, cercate di comprendere da voi se il progetto è valido e se secondo voi verrà in futuro adottato. Il mio video magari può essere, può darvi un piccolo aiuto nel risparmiare un po' di tempo e capire se il progetto, che senso ha sostanzialmente il progetto. Allora, prima di entrare nei dettagli di Archain, interessante menzionare che questo progetto è stato nominato da Jan Balina, che è uno dei principali youtuber mondiali, ex IBM, tra uno dei più promettenti per il 2018. Insieme ad altri quattro, dei quali di alcuni abbiamo fatto anche delle review su questo canale. Gli altri quattro, insieme ad Archain, sono Zillica, OneChain, Nebulas e Poa Network, o Oracle Network. Per cui, interessante che un youtuber così esperto abbia menzionato questo progetto. Da notare che sono tutti i progetti, questi cinque, sono progetti di blockchain, nel senso che sono delle infrastrutture, sono delle vere e proprie blockchain su cui gli sviluppatori andranno a costruire in futuro i futuri software, le future aziende che nasceranno sulla blockchain, nasceranno su delle infrastrutture. Per cui, secondo Jan Balina e anche secondo me, questi sono progetti che hanno probabilmente più potenziale di adozione rispetto invece a delle applicazioni che vengono costruite sulla blockchain, proprio perché costituiscono la struttura su cui le future aziende verranno costruite. Passiamo a Archain. Allora, Archain ha l'obiettivo di creare una blockchain che sia più scalabile, per cui più veloce, e più sicura delle attuali blockchain. Il concetto di scalabilità si riferisce a quante transazioni una blockchain è in grado di elaborare ogni secondo. Questa è una cosa di cui si parla spesso, ci sono tanti progetti di blockchain che si sfidano per rendere la blockchain più scalabile, si sentono di tutti i tipi di numeri, Zilliq ha per esempio 2.500 transazioni al secondo, High Performance Blockchain 100.000 transazioni al secondo, Credits 1.000.000 di transazioni al secondo, per cui si sentono di tutti i numeri. Però il concetto è sostanzialmente che si lavora tanto sulla scalabilità delle blockchain, perché in questo momento Ethereum è in grado di elaborare solo 15 transazioni al secondo. Il team di Ethereum sta lavorando per andare ad aumentare la scalabilità della blockchain tramite diverse soluzioni. Però c'è un problema di scalabilità, perché diversi business che fanno tante transazioni al secondo non possono in questo momento adottare la blockchain perché non c'è sufficiente velocità e scalabilità. Il secondo tema su cui si focalizzano è il tema della sicurezza degli smart contract. Andiamo a vedere in particolare quelle che sono le specificità di questa blockchain. Allora, intanto mi scuso perché è un progetto che è molto tecnico, io non sono un tecnico per cui è molto probabile che dica delle cose sbagliate. Mi scuso in anticipo se dico cose sbagliate e le notate, mi raccomando, correggetemi nei commenti. Allora, si tratta di un progetto che ha una base matematica molto forte, per cui ci sono dei veri e propri cervelloni matematici che hanno elaborato questa blockchain. Rho Calculus è il modello di computazione matematico che sta alla base di R-Chain, per cui c'è un modello di computazione e matematico molto complesso. Interessante da notare che loro hanno elaborato un nuovo sistema, un nuovo linguaggio di programmazione, per cui per programmare sulla blockchain R-Chain è necessario conoscere un nuovo programma che è diverso da Solidity e da Zilla, mi sembra che si chiami, che sono i due linguaggi, il primo per programmare su Ethereum e il secondo per programmare su Zillica, Roland è il linguaggio utilizzato per programmare su R-Chain. Ed è molto interessante questo linguaggio perché è molto più semplice, almeno loro dicono, programmare gli smart contract tramite questo linguaggio ed è molto più difficile commettere degli errori. E quindi così risolvono il problema di sicurezza degli smart contract, perché spesso gli smart contract sviluppati su Ethereum, per esempio, hanno dei bug che permettono agli hacker di andare magari a sottrarre dei fondi o andare a, insomma, ad inserirsi all'interno del meccanismo. Per cui è una blockchain, teoricamente, che ha degli smart contract molto più sicuri, perché ha un linguaggio che sbaglia molto più difficilmente. Hanno delle virtual machine, le virtual machine sono delle macchine virtuali che fanno, che elaborano gli smart contract. E' interessante, seconda peculiarità, è che loro definiscono le loro virtual machine concorrent, per cui in concorrenza sostanzialmente tra di loro, nel senso che non elaborano una transazione per volta, ma sono in grado di elaborare più transazioni allo stesso momento, e quindi accelerando, ovviamente, la velocità della blockchain. È un pochino come il concetto di sharding di cui avevamo parlato per Zilliqa. Si tratta di una blockchain che ha un algoritmo del consenso che è proof of stake, e quindi che non utilizza la CPU o la GPU come bitcoin, per cui che non consuma tanta energia, proof of stake. E' interessante qua, sarà possibile sul singolo nodo, quindi sul singolo computer che si collega alla blockchain, avere collegate più blockchain che si collegano alla struttura di R-chain. E loro la chiamano compositional blockchain, per cui blockchain composita, che si compone di diverse blockchain che possono collegarsi alla piattaforma, a scollegarsi, creare dei gateway, insomma, un progetto che è molto complesso dal punto di vista tecnico. Andiamo a vedere un'altra cosa interessante, che il nome del progetto è R-chain Cooperative. Qua molto interessante che loro hanno un modello di governance, che è una cooperativa, è una cooperativa che è incorporata negli Stati Uniti, in particolare a Washington, dove è possibile iscriversi, costa 20 euro, 20 dollari ed è lifetime, per cui per sempre, e si può contribuire con un voto, sostanzialmente a quelle che sono le decisioni della community di R-chain. Molto interessante che ci sono tantissimi sviluppatori in particolare che da tutto il mondo si uniscono per dare loro un contributo allo sviluppo di R-chain, che è un codice comunque open source, per cui tutti possono scaricarlo. Un'altra cosa interessante che ho dimenticato di dirvi è che questo è uno dei progetti che è più attivo su G-Tab. G-Tab è la piattaforma su cui praticamente gli sviluppatori caricano quello che è il loro lavoro, per renderle fruibili agli utenti, ed è uno dei progetti che è più attivo insieme a iOS, per cui gli sviluppatori di R-chain stanno lavorando tanto e producono tanta tecnologia. Andiamo al team. Come vi dicevo, è un team di matematici, in particolare il fondatore e presidente della cooperativa si chiama Greg Meredith ed è stato Principal Architect of Microsoft Beats Talk Process Orchestration, per cui praticamente era uno sviluppatore per Microsoft. Ho sentito diverse interviste di questo personaggio, è molto brillante, proprio è un matematico, esperto di matematica ed esperto di logica, per cui alla base di questo progetto c'è sostanzialmente un modello di computazione matematico. Interessante da dire che Greg Meredith era prima fondatore di un altro progetto che si chiama Scenario Amp, che poi lui ha lasciato per dedicarsi ad R-chain e questo è il grafico di Scenario Amp da quando lui sostanzialmente ha lasciato il progetto, per cui c'è stato un crollo di Scenario Amp, perché lui è una figura molto chiave. secondo membro che voglio segnalare all'interno del team di R-chain è Vlad Zamfir che ha lasciato Ethereum, era uno dei principali sviluppatori di Ethereum che lavorava a braccetto con Vitalik Buterin e che ha soprattutto sviluppato il Proof of Stake di Ethereum che adesso ha lasciato Ethereum per dedicarsi ad R-chain, per cui qua si vede un articolo su Medium dove si vede Vlad Zamfir perché si unisce alla R-chain Cooperative. Passiamo a vedere R-chain su CoinMarketCap, lo trovate sull'exchange con la sigla RHOC, ha un costo di 1,82$ in aumento oggi di poco sul cambio col dollaro, ha una supply massima di un miliardo di token, un volume di 780 milioni giornalieri e una capitalizzazione di 654 milioni. di dollari. Lo trovate su KuCoin e sia con il cambio Bitcoin e con il cambio Ethereum. Io per esempio utilizzo Bitcoin per comprare R-chain. Alcune considerazioni finali, secondo me ragazzi io ho visto, ho letto il white paper e ho visto un po' di video di questi, del team di R-chain, secondo me sono molto competenti e molto forti. È chiaro che c'è tantissima concorrenza per chi svilupperà la blockchain che verrà adottata da business che eseguono tante transazioni al secondo. È chiaro che è un tipo di ambiente che è molto competitivo, ma c'è da dire che loro sono molto attivi come sviluppatori, tanto che come vi dicevo il loro GitHub è sempre pieno di novità e poi andate a sentire le interviste del fondatore che mi è sembrato una persona molto molto competente, per cui secondo me è un progetto molto interessante da seguire e di cui si parla sostanzialmente ancora molto poco. Io vi ringrazio, vi auguro buona fortuna e ci vediamo alla prossima.